GG a tutti ragazzi, sono Alien e scusate per il ritardo Vi avevo detto che vi avrei fatto l'unboxing della limited edition di Destiny Promessa che non ho mantenuto per il semplice fatto che ho ricevuto il gioco solo giovedì Grazie al fantastico corriere GLS, dunque un po' per la rabbia, un po' per il fatto che un unboxing di giovedì sarebbe stato emozionante Quanto un bacio ad una sorella, e io sono figlio unico, ho deciso di saltarlo Beh, le scuse arrivano anche per il fatto che solo adesso mi son fatto vivo La colpa però non è di nessun corriere questa volta, ma di Destiny stesso Un titolo che sì, mi aspettavo magnetico, ma non sino a questo punto Oserei dire che è un titolo che attrae quanto la gravità stessa Non ci si può staccare se non con un breve salto Tanto poi si tornerebbe di nuovo al punto di partenza, cioè a terra Questa è una partita di quella che è la mia modalità multiplayer competitiva preferita Ovvero rissa, cioè tutti contro tutti, vince il più forte e non la squadra migliore È la modalità ideale quando si gioca da soli Così se si vince o si perde, fortuna a parte, il merito o il demerito è tutto nostro È un video relativamente corto questo, è un po' un saluto Un modo di farvi capire che ci sono ancora Ed una preparazione, una lunga serie di video su Destiny Che spazieranno su ogni comparto Assalti, crogiolo, raid, farming per le ceste Insomma, cercherò di trattare ogni pezzo di Destiny al meglio delle mie possibilità Posso fare una recensione su Destiny? No, no per il semplice fatto che il gioco continuerà ad evolversi Già lo sta facendo in questi giorni Ricordo che la settimana prossima arriva l'evento Queen's Wrath In pratica dovrebbe fare la comparsa l'emissaria della regina Ovvero un vendor che dovrebbe appunto vendere pezzi di armi e armature speciali Ottenibili solamente tramite le taglie speciali della regina Appunto riscattabili dal solito cacciatore di taglie E questo è giusto un esempio degli eventi che sono previsti prossimamente Ricordo che ad ottobre ci sarà anche lo standard di ferro Ovvero l'iron banner, ve lo ricordate? No, quella modalità multiplayer competitiva Dove il proprio equipaggiamento conta veramente Ora Comunque È Destiny privo di difetti? Assolutamente no Direi che c'è ancora un po' da lavorare sui bilanciamenti vari delle armi Penso che abbiano fatto un ottimo lavoro per le pistole Ma non un lavoro eccesso per i fucile impulsi Che percepisco ancora come armi poco competitive E i fucile automatici credo siano ancora le armi primarie migliori del gioco Il tutto appunto sotto un punto di vista multiplayer competitivo per intenderci Non mi piacciono i cambiamenti che sono stati fatti agli intercettori Un intercettore per mappa ci può anche stare Il ratio di fuoco più basso anche Ma il danno è stato abbassato troppo secondo il mio punto di vista Tanto da farmi passare la voglia di impegnarmi per prendere l'intercettore stesso Non dico che l'hanno reso praticamente inutile ma quasi Credo che i Barracuda Ovvero gli altri veicoli, quelli che assomigliano ai Ghost di Halo Siano molto più pericolosi degli intercettori adesso E non va bene perché se mi riduci gli intercettori ad uno solo Per mappa Mi aspetto che sia un veicolo più potente di quelli che già ci sono in giro Appunto Non è così In pratica secondo me Adesso gli intercettori appunto sono molto meno performanti dei Barracuda Tra parentesi spawnano a match in corso e non c'è neanche una voce che ti dice che sta per spawnare Ma bisogna fare attenzione all'area delle kill feeds in pratica a sinistra Insomma poco comodo perché non si può stare sempre a leggere tutte le informazioni mentre si gioca Mi aspettavo che ci fosse l'annuncio come per le armi pesanti Invece no Ecco questo è secondo me il punto dove bisogna lavorare di più Sono rimasto deluso anche dalla modalità armi unite Ovvero mi aspettavo che fosse una modalità piena di veicoli Ma in realtà è un semplice alternarsi delle modalità controllo e scontro Su credo solo un paio di mappe Luna e Marta Almeno queste sono le uniche due che mi sono capitate Ammetto che non ci ho giocato molto In pratica in queste modalità ci sono gli stessi numeri di veicoli delle altre modalità classiche Quindi se voi affrontate una modalità controllo sulla Luna Vi ritroverete anche qui un intercettore solo I barracuda che esponano Insomma qual è la differenza? La differenza è che nella modalità armi unite Lo spawn delle munizioni pesanti è più frequente Quindi le munizioni pesanti appariranno più spesso Troppo poco secondo me perché mi aspettavo che ci fossero stati almeno un paio di intercettori per mappa Che ogni elemento, ogni persona, ogni guardiano che affrontava quella modalità Secondo me avrebbe dovuto avere almeno un veicolo di riferimento Proprio per incentrare tutto quanto sui veicoli Cosa che invece così non è stato Questi sono gli unici lati negativi del gioco Per il resto onestamente non ne sono riuscito a trovare di altri lati negativi E vadate ci ho giocato parecchio a Destiny 1700 e passapunti Grimorio Credo di non essere troppo presuntuoso Quando dico che posso permettermi di dare un giudizio anche solo superficiale al gioco Visto che l'ho giocato abbastanza Il multi player competitivo è qualcosa di favoloso Prima di Destiny solo Elo era riuscito a divertirmi così Il lato co-op, il loot, le progressioni del personaggio In pratica è un sogno E per questo non sono riuscito a staccarmi da Destiny Voto provvisorio 9 Che può diventare 9,5 se mettono a posto quei punticini che ho evidenziato Ha spazzato via la concorrenza nella mia lista di titoli preferiti Elo incluso Benvenuto Destiny E voi invece rimanete sintonizzati sul mio canale Perché la pioggia di video sta per arrivare Alien vi saluta Peace!